E dopo tre minuti più nulla si muoveva sul mare. Grazie a tutti. 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 Ehi, forza Andiamo Ho guardato la sua Su, adagio Dai, forza, ragazzi Giù, adagio Andreoli Rivoltatelo Salutali tu per me Grazie Povero leone Dovete lasciarci e dire addio ai suoi giovanili sogni di gloria Noi continuamo agli allenamenti che divennero sempre più difficili e faticosi I maiali cominciavano a funzionare E quasi ogni notte ci esercitavamo ad attaccare lo scafo di una vecchia nave in disarmo E allora beviamo alla salute delle donne belle e generose con i marinai E veniva E veniva Tutto bene? Sì, comandante La prova ha confermato l'accesso dei tre? Sì, comandante La prova ha confermato l'accesso dei tre? Sì, comandante La prova ha confermato l'accesso dei tre? Sì, comandante La prova ha confermato l'accesso dei tre? Sì, comandante La prova ha confermato l'accesso dei tre? Sì, comandante La preghiamo di fare un brindici con noi alle fortune dell'Orsa Maggiore Perdo Evviva l'Orsa Maggiore Evviva Martini mi ha detto che stanotte è andato tutto bene Bravi Otto ore di lavoro subacqueo con questo gelo Nessuno l'ha mai fatto E il nemico certo non lo ritiene possibile Ma ora A riposare I maiali sono a cavitello? Sì, comandante Bene, li rimorcherò la motobarca Silvani Altieri e Gorini Domani a mezzogiorno Nel mio ufficio Buonanotte Buonanotte La propria base in vista di un porto nemico Per realizzarla abbiamo dovuto e dovrete Vincere difficoltà che nessuno Ha mai neanche pensato di poter affrontare La base segreta è già in corso di approntamento Nella stiva del piroscafo italiano Canopo Ormeggiato qui All'entrata del porticiolo di Algezias Vi fu bloccato allo scoppio della guerra E sabotato dall'equipaggio Cosa che ora serve ottimamente al nostro scopo Dopo ogni azione tornerete con i maiali sul Canopo Ma nel caso facessero avaria o foste avvistati ed inseguiti Dovrete salvarvi a nuoto Su questa spiaggia Vicino alla zona dei piroscafi Dove il capo settore del Sigma 2 Penserà a recuperarvi Bisogna evitare assolutamente Che la base sia scoperta La sua esistenza e la sua efficienza Valgono come l'aver vinto una grande battaglia navale Manoi, come are Ehi, vieni fuori Senares è laggiù Grazie, amico Grazie a te E buona fortuna Anche a te Qui non c'è pericolo Però avete disertato per salvare la pelle E stavate per lasciarla qui Quanto c'è al bivio? Un'ora se ci sbrighiamo Andiamo Ehi, quanti chilometri a Senares? Circa 15 C'è caccia da queste parti? Dicono che ci sia qualche orso E magari qualche orso maggiore Andiamo a lui Chiamatemi Giacomo Salute Tutto bene? In ora si Al passo di terra Al resto penserà qualcun altro Il mio compito è finito Se vi chiedono documenti Mostrate quelli che vi ho dato Buona fortuna Grazie E attenti alle spie Sabe Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Ay Para la ciudad Lleva Su pensamiento Todo mundo lleno De felicidad Ay Piensa e remedia La situazione Tiene su cargo Es todo Su ilusione Si Y alegre El guitarrito Va diciendo Así Pensando Así Cantando Así Por el camino Si io vendù la carga Mi dios Querido Un traje mia Mi hijita Vorì a comprar Mi hijita Y alegre También su llego Va a presentir Que a que cansar Es todo Un nino De alegría Y me solo sorprende La luz del día Y llega Dal mercado De la ciudad Pasa La mañana Enterra Sin que la que quiera Su carga Comprar Ay Su carga Comprar Todo Todo Está desierto Y el pobre Está muerto De necesidad Ay De necesidad Se oye Los lamentos Por dokien De ese Desdichado Borinquen Y triste El guitarrito Va diciendo Así Pensando Así Llorando Así Por el camino Mi piacerebbe bere Un bicchiere con ti Tiedi No Aspetto sopra Va bene Borinquen La tierra Vede Della Che al cantar El grango Tiege A volar Perla De los mare Che donna Ci vai Si tu tambien Oh Si no te van a oír Es subito Déjame que tus cantes Yo tambien Déjame que tus cantes Yo tambien Déjame que tus cantes Yo tambien Brava 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 Bella Bella Beh allora ci vediamo più tardi Oh sta attento Se non torni presto veniamo su noi Oh va bene Fortunato lui Prudente il marinaio Vieni avanti Non ti piace Sei bello Non sei molto intraprendente Per pensare che gli italiani hanno fama di essere aggressivi E tu? Di che razza sei? Diciamo spagnola Da quanto tempo sei qui? Che ti importa? Allora? Semplice curiosità Quante stelle Ne conosci qualcuna? Soltanto quelle sette L'orsa maggiore La prima si chiama Alza E l'ultima si chiama Zeta Ben arrivato comandante Sapevo di dover incontrare qualcuno Ma ho dubitato molto che fosse lei Oh perché? Di solito gli agenti segreti della marina Hanno un aspetto molto diverso Ha fatto buon viaggio comandante Un po' movimentato ma nel complesso bene Che istruzioni da Sigma 2? Il capo settore mi ha incaricato di dirle che dovete andare a bordo questa notte I marinai del Canopo sono avvertiti e vi aspettano Sono quelli seduti a destra della porta Quando escono unitevi a loro senza dare nell'occhio Qui è pieno di spie E la sorveglianza sul piroscopo? Il solito picchietto di trendarmi del controllo neutrale Una sentinella sulla banchina e gli altri a bordo Hanno qualche sospetto? No ma occorre molta prudenza Perché non debbono sapere assolutamente nulla Sarà difficile passare? Le altre volte è andata bene Allora addio Perché? Non vuole più rivedermi? So che nessuno deve tornare a terra Una volta dentro Eccetto lei per i collegamenti A bordo le daranno documenti da marinaio del Canopo Va bene Un momento Mi scusi comandante Serve per quelli di sotto Eccolo Com'è andata? Eh, mica male No, andiamo È tardi Beh, venite, usciamo Amore, ubriate Ciao, Pedro Ti saluto Marion Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, via Ciao, Pedro Ciao, Pedro Sempre la stessa storia, eh Ciao, Roi, qui� sono Non so, sei, via Siamo in comunicazione con il mare La vestura è fatta È abbastanza larga Ha detto il comandante Bravo A mai in adagio Va bene, ferma il compressore, di fuori che la piantino Il segnale Andiamo Ingegnere, non si riesce a trovare la pompetta Hai guardato nel barile della naf Quale? Quello in cui è arrivata la testa del maiale Non c'è E lì dentro? C'è rimasta solamente la bussola per il canopo E nella bussola, hai guardato? Adesso capisco perché era così pesante Dicendo a Stromo che Marianne ti aspetta Bene Dicendo a Stromo che era così pesante Il capo settore ha mandato a dire che il convoglio è arrivato stamattina Trasportano divisione corazzata e riparte domani Supermarina ordina di attaccarlo Ma noi non siamo ancora pronti? Il capo settore deve saperlo Se attaccate deve aspettarvi sulla spiaggia Ma no, è inutile Il montaggio è appena cominciato Mancano ancora molti pezzi Lei sa che il convoglio è diretto in marmarica? Lo sa che c'è un'offensiva in corso? Sì, sì Lo so Ma stanotte è impossibile Peccato Quando arriveranno le altre casse? Torni stasera Lo farò chiedere al capo È molto tempo che lavora per la marina? Due anni Arrivederci Ma l'occasione era troppo importante E decisi di compiere un estremo tentativo Non potendo montare tre maiali Con i pezzi che erano arrivati Cercammo di metterne insieme almeno uno Pronti laggiù? Pronti Proviamo Andiamo Avanti Avanti Accidenti Dammi quella chiave Quella Quella La 25 Caccia vita Caccia vita Caccia vita Che ora fai tu? Le otto e tre quarti Ce la faresti? E tu che vuoi con quell'arnese? Voi due andate col maiale E io dovrei restare qui? Come? Comandante Chiedo l'autorizzazione di attaccare a nuoto La distanza è troppo forte Fino ai piroscafi ci arrivo Poi mi butterò sulla spiaggia Vai a prepararti Pronti là? Possiamo riprovare Pronti? Attenzione Via Mi dispiace Silvani Non c'è niente da fare Bisogna rismontare la coda Quanto tempo? Almeno due ore ci vorranno E poi Andare così senza un collaudo in mare Ma questo sarebbe il meno Ma due ore sono troppe Beh non te la prendere Miracoli non se ne fanno Andremo a nuoto anche noi Te la senti di fare una nuotata così lunga? Hai lavorato tanto Ora sei stanno Risparmio il piatto Voi continuate a lavorare Ciao Petrino Ciao Marion Perché non ti siedi qui con noi? Volentieri Su Senti Con questo tipo di bombe subacquee Ci sono tre secondi per stendersi in superficie Se le lanciano a distanza pericolosa Altrimenti la botta ti frantuma la spina dorsale Un tempo ci bescavo i pesci con quel sistema Le reti per favore Pronti? Se tutto va bene ci salveremo sulla spiaggia presso il confine E torneremo a bordo appena possibile Voi in ogni modo continuate il montaggio A giorni arriveranno i piloti di riserva Non dubiti comandante Forza maggiore Avanti I Passammolo Voi buona Qua 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 Io vi accompagno. E adesso scusate, devo andarmi. Già, tu preferisci gli italiani? Io preferisco chi mi paga meglio. Allora, Joe. La Chitana. Ognuno di noi aveva un preciso obiettivo, ma comuni erano i pericoli che dovevamo affrontare. Per difendere le navi dall'insidia invisibile e permanente dei nostri mezzi d'assalto, un nugolo di motovedette incrociava attorno ad esse, gettando in continuazione bombe subacue. Ognuno di noi aveva un po' di sottotitolo. 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 Grazie a tutti. 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 La dolce guitarra gitana, ¿dónde estás? Y todo está muerto conmigo, ¿dónde estás? Yo vivo por ti, perdiéndome así, mala sierra. Mala sierra, mala sierra. Y piensa mi triste camino sin amor, la tierra andaluza caliente se murió. No quiero sufrir, yo quiero morir, mala sierra. No, 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 no. Rodman! Rodman! Signal now. E' roba da italiani. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo? No me gusta la guerra. ¿Verdad? ¿Verdad? di informartene? Potrebbe essere un affare. Non mi piace la guerra, ho detto. Troppo rischio. E poi non sopporto gli spari. Troppo rumore. Ne riparleremo, Marion. Non sopporto gli spari. Troppo rumore. 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 Lo porto nell'automobile sulla strada. Tu aspetta qui se arrivasse qualcun altro. tornerò appena possibile. Troppo rumore. 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 Grazie a tutti. Non ti piaceva la guerra, eh? Che vuoi da me? Lasciami. Voglio sapere dove sono andati. Non so nemmeno di chi parli. Era il tuo italiano, l'ho riconosciuto. E allora perché non l'hai affrontato? Perché non mi interessa lui. Mi interessano tutti insieme. Devo sapere da dove sono partiti. Da l'Italia, credo. Basta, Mario. Da dove hanno cominciato l'azione? Dove si nascondono? Vuoi saperlo gratis? Mi le servite. Sei diventato avaro. Due mila. Basta, Mario. Fermati. Parla. Non lo saprai mai. Non lo saprai mai. Ehi, come va, carissimo? Ciao. Potrebbe andar meglio. Ha sistemato bene il signore, eh? Ma di che cosa ti lamenti? Poltrona, pantofole, una bella croce rossina, eh? Già, e i polmoni a pezzi. No, non fare il pessimista. Ho parlato ora col primario. Mi ha detto che guarirai presto. Non sai fingere. Ammesso che esca di qui non mi rimarrà che coltivare un orticello. E consolati. Se la guerra continua così, faremo tutti altrettanto. E tu? Che fai? Torni sul canopo? No. Divieto del Sigma 2. Oramai la mia faccia è troppo conosciuta da quelle parti. Sono già andati altri laggiù. A continuare l'impresa. Sai, ripenso spesso a quella povera ragazza. Mario. Dovremmo considerarla dei nostri. La settima dell'orsa maggiore. Peccato che nessuno possa più dirglielo. Mi sarebbe stata felice. E tu ora dove andrai? Mi scade la licenza dopo domani. So solamente che devo presentarmi alla base. Alessandria è una base inviolabile. Nel tentativo di attaccarla con i nostri mezzi, abbiamo già perso due sommergibili. Ma ora dobbiamo riuscire. In Africa si sta preparando una grande offensiva e i nostri convogli debbono poter passare. In questo periodo, voi lo sapete, la nostra flotta ha subito gravi perdite e occorre ristabilire l'equilibrio. Perciò è assolutamente necessario affondare le corazzate che si trovano in quella base. L'azione potrà avere conseguenze strategiche incalcolabili. La vita di migliaia di uomini e forse l'esito di una grande battaglia terrestre dipendono in gran parte dal risultato di essa. Ma è l'impresa più difficile di quante ne abbiamo tentate sinora. Ed è per questo che mi rivolgo a voi che ritengo i migliori e i più preparati del nostro reparto. Sappiate che da questa azione non si torna. Nel migliore dei casi, prigionie. È una grave decisione. Avete tempo sino a domani per darmi una risposta. Comandante, perché perdere 24 ore? Grazie. Tornate da me oggi nel pomeriggio con i vostri secondi piloti. Sono fuori chi aspettano, comandante. Allora, che entrino subito. Entrate. Sottocapo Palombaro Salerno, secondo pilota di Zambelli. Sottocapo Palombaro Guerrini, con De Luca. Sergente Palombaro Nardi, con me. E tua moglie? Aspettate un bambino? Sì, comandante. Quando? Tra una diecina di giorni. Per quell'epoca sarei molto lontano dall'Italia. Nessun dubbio? Nessuno, comandante. Bene. Potete andare. Buona fortuna. Venite. Questo è il porto che dovrete attaccare. Obiettivo, le due corazzate che normalmente sono all'ormeggio qui e qui. E il terzo maiale? Attaccherà la porta aereo, se questa è assente o una delle petroliere, alla banchina nafta. Supermarina vi confermerà l'esatta posizione dei bersagli prima dell'azione. Vi porterà un sommergibile che dovrà attraversare i campi minati esterni per lasciarvi a circa 5 miglia dall'entrata del porto. Poi, secondo le informazioni raccolte, dovrete superare l'insidia di questo cavo idrofonico con mine comandate la terra. Qui, all'ingresso della rada, c'è una rete di sbarramento con galleggianti cilindrici e qui, all'imboccatura del porto, una seconda ostruzione, a quanto pare non superabile in superficie. Agli estremi degli sbarramenti, posti di vedetta, batterie, mitragliatrici e proiettori che si accendano ad intermittenza. Fra le due ostruzioni, troverete moto vedette di vigilanza che lanciano bombe in continuazione. Nel porto, sembra che incrocino motoscafi silenziosi, con bombe e proiettori pronti a dare l'allarme al minimo sospetto. Data prevista per l'azione tra dieci giorni. Lascerete l'Italia domattina, per andare alla base di partenza dell'impresa, a completare la preparazione. I dettagli del piano di attacco li studierà lei e deciderà in conseguenza. Sarà un compito molto duro, ragazzi. Io credo in questo momento di potervi esprimere la gratitudine della patria. Cara mamma, mi era triste molto pensare che questa lettera ti darà tanto dolore. Sapessi quanto bene ti voglio, ora più che mai. Perdonami se qualche volta ti ho fatto soffrire. Sii serena. Quando noi moriamo in azione, non soffriamo. E poi credo che dove andrò, ritroverò papà e i miei compagni. Ora debbo rivelarti un segreto. Lascio mia moglie e un bimbo. Nessuno doveva saperlo perché a noi non è permesso sposarci. Io l'ho fatto. Quando mio figlio sarà più grande, digli che ero un buon marinaio e chiamavo la patria. Digli che non gli sono più accanto perché ho voluto aiutare lui e tanti altri bambini. E che gli auguro di non vedere più l'orrore degli uomini che uccidono altri uomini. Digli che gli ho voluto tanto bene. Digli che gli ho voluto tanto bene. Compenso mare tre. Grazie del concerto ragazzi, ma ora basta. Le mine dovrebbero essere a circa quattro metri dal pelo dell'acqua. Se non ne incocciamo qualcuna e ce la tiriamo addosso, standosi quaranta forse passiamo. Quanto manca? Ci siamo. Vuota? Quarantuno. Mantieni così. Tenente, avvertire l'agente. Attenzione, attenzione. Stiamo entrando in un campo minato. Chiudere le porte stagne. Comunicare ogni rumore a scafo. Attenzione, attenzione. Stiamo entrando in un campo minato. Chiudere le porte stagne. Comunicare ogni rumore a scafo. Radio, quant'è la profondità? 52 a diminuire. Qui camera lancio prora. Qualcosa striscia sullo scafo. Ferma tutto. no E' un'altra E' un'altra passata Pari, avanti, minimo Questa è passata Speriamo di non incocciarne un'altra Speriamo bene Siamo fermi sul fondo in 22 metri Se la stima è giusta dovremmo essere a 4 miglia dalla prima ostruzione Hai finito di decifrare? Fra poco comandante L'uomo civetta è fuori? Sta uscendo ora comandante Grazie a tutti Caldo? No, paura Anche io Vedo puntaspina Per gradi 7-5 Direi che è a circa 4 miglia Cielo coperto Mare quasi calmo Costa oscurata Niente altro per ora Pronti comandante Supermarina comunica Due corazzate solito ormeggio Portaerei assente Terzo apparecchio attacchi petroliera Da Luca, questa è per te Bella fregatura però, eh? Un momento, non è finito Per il sergente Nardi Nato ieri Luigi Tre kilogrammi e ottocento Madre bene Congratulazioni Grazie Tra le gravela Auguri, eh? Sì, auguri Mi è acceso per pochi istanti un proiettore Credo sopra la prima ostruzione Possiamo andare? Quando vuoi Fuori i primi Andiamo Orsa Maggiore, avanti La grande impresa Era incominciata Sei italiani Si aggingevano ad assaltare Uno dei più potenti complessi Della marina britannica Grazie 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 In gamba, eh? Anche per lui, Gino. Buona fortuna. Ne avremo bisogno tutti e due. Buona fortuna. 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 Chissà se gli altri sono già passati Ha visto nessun segno d'allarme, comandante Mi pare tutto calmo Guardi lì, sta arrivando una nave Dovranno aprire l'ostruzione Proviamo a buttarci sotto e andare dentro insieme alla nave Sarebbe un bel colpo, comandante Sarebbe un bel colpo Qui i cilindri sono troppo stretti Dovremmo passare sotto la rete Prepari il paranco Questa è la sua Questa è un bel colpo Questa è una porta Questa è un bel colpo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il caso volle che mi incontrassi con Zambelli, così ci prestammo il reciproco aiuto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 ... a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ... a tutti. 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 riuscii miracolosamente a salvarmi e dopo alcuni anni di prigionia mentre l'Italia era in regime di armistizio. ora avrò l'onore di decorare di medaglia d'oro al valor militare tre uomini dei mezzi d'assalto navale i soli superstiti del glorioso gruppo dell'orsa maggiore tenente di vascello luigi silvani un momento prego oggi sono il capo della missione aleato d'armistizio in italia ma un tempo ero il comandante della corazzata che questo ufficiale ha affondato e tale è la mia ammirazione per l'eroica impresa da lui compiuta signora ammiraglio che sono a chiederle di cedermi l'onore di appuntargli personalmente la medaglia sul petto grazie signora ammiraglio la ringrazio le sue parole non onorano soltanto me ma tutti coloro che mi hanno preceduto sulla via di queste imprese e che con il loro sacrificio hanno reso possibile la mia azione grazie 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 grazie